Seconda corsa di Palermo, mezza dozzina di indigeni di tre anni alla via, allineamento non esemplare, con due cavalli comunque che provano a lottare fra di loro per assumere il comando delle operazioni. L'impresa, per così dire, riesce alla favorita rugiada SMS che va a condurre nei confronti di Rifom in terza posizione Royal Cuff che precede Roger RL e Rada di Bianca, mentre l'utsider Roger Ranget si trova già a distanza abissale, peraltro continua a sbagliare, quindi è da considerare fuori gioco. Guida con una certa placidità d'azione, rugiada SMS nei confronti di Rifom e di Royal Cuff con lo verde che si sposta per vedere se è il caso già di cominciare a pensare alla sortita esterna. Più tranquillo sembrano tale cintura con la sua rugiada, con la sua Roger RL, i cavalli stanno per transitare davanti alle tribune, andatura abbastanza tranquilla, attorno al 46,2 da 1,17 più o meno i primi 600 metri che vedono la favorita rugiada SMS menare alla danza. Nei confronti di Rifom, Royal Cuff, Roger RL ed in coda Rada di Bianca, non ci sono scossoni e le posizioni si mantengono esattamente per quelle che ho già citato, una classica fila indiana. Ancora nessuno prova a mettere il muso fuori ed il primo chilometro viene raggiunto da 1,18 scarsi, quindi andatura ancora piuttosto tranquilla per la categoria. A questo punto Biagio lo verde sposta con Royal Cuff che affianca Rifom e cerca di puntare sulla capofila rugiada SMS. Anche Natale Cintura si prepara con Roger RL prendendo la scia del numero 1 Royal Cuff. I cavalli stanno per entrare nel rettilineo conclusivo con Cosimo Cangelosi che sembra avere in mano la situazione con rugiada SMS. Prova a venire avanti sotto frusta Royal Cuff ma rugiada SMS resiste molto bene. All'interno c'è Rifom che poi viene a prendere il secondo sottraendo la Royal Cuff che contiene Roger RL. Quindi sostanzialmente l'ordine d'arrivo rispecchia esattamente quello che era successo in partenza, rugiada SMS facile vincitrice nelle mani di Cosimo Cangelosi. I colori di rugiada SMS sono quelli della scuderia Simone Ciappa 3-4-1 all'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della seconda corsa di Palermo.